Lampedusa, l'isola maggiore dell'arcipelago delle Pelage, in greco antico vuol dire mare aperto. Ed è proprio lì che noi andremo. L'isola ci offrirà la possibilità di nuotare nelle sue acque eccezionalmente limpide. Ottimo cibo e borghi accoglienti saranno la cornice di indimenticabili momenti in acqua libere. Un viaggio fra mare caldo cristallino, spiagge remote e natura selvaggia. La vacanza per chi ama il nuoto. Lampedusa Swimming Camp, solo con Swimming Travel.